Siamo qui con Chiaiese, migliore in campo nella partita tra Reale, Muto e Sevilla, finita sorprendentemente 14 a 0 per la Reale e Muto. Chiaiese migliore in campo perché autore di 8 gol. Allora, un commento a caldo e poi qualcosa sull'esordio. Molto felice di questo esordio, era inaspettato perché è una squadra ora organizzata, ma siamo entrati in campo molto decisi di vincere. Abbiamo giocato passaggi, molto scambi veloci e siamo andati a rete molto facilmente. Fatto 8 gol, ma non è solo merito mio, ma anche della squadra che mi ha permesso di fare una buona prestazione. E senti, in prospettiva futura siamo alla seconda giornata, il campionato è lungo, però qual è il vostro obiettivo? È ancora presto per arrivare a un punto, però noi siamo ottimisti e andiamo avanti. Cerchiamo di fare del nostro meglio e giochiamo con le nostre possibilità. Va bene, grazie Chiaiese allora. Ciao.